Lo so botto veramente? E' meglio Andiamo al game No, ma secondo me dovremmo... dovremmo buttarci giù Perché il primo game non gli ne frega un cazzo quante quante kill fai, quante cose fai Da me Quanto non ho la domanda o non voglio darlo switch? Splittiamoci dai Quanto non vedo nessuno Oddio cane Beh vado a cosa? Spiaccio Che cazzo che ha sparato da qua? Eh vabbè sono lontano Oh 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 Ma chi è che mi scorda? Perché ha fatto il rumore della cosa ma non c'è nessuno? Ehi, non c'è gente da me. Non c'è nessuno? Quindi, non c'è nessuno? E' solo un giro, non c'è nessuno? E non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? E' un giro che mi piace? E' un giro che mi piace? Ok. Ok, ok. Grazie a tutti. Ho scelto un posto di merda io. Grazie a tutti. Sì, bravo. Ovvio. Facina sorpresa, facina sorpresa. Però il problema è che io non vedo nessuno. Io ho caricato l'assalto con 20 polvi dentro. Me l'ha rimasti 20. Eh, perché quello è un assalto con... No, c'è tipo doppio caricatore. Tipo caricatore rapido, dai. Il caricatore rapido è forte, quindi lo ha sbocché. Ho dimenticato proprio di decaricarlo. Mi fa max damage. Io ho missato persona. Oh Dio mio! Niente, mi sono beccato... Ma tizio che mi ha piazzato la torretta davanti. La torretta mi sappola. Ah... No, ho preso la macchina di cicciogamer. La macchina di cicciogamer. Queste cose nel video che poi le devo tagliare. Pezzo di merda. La camera di cicciogamer. Perché non è vero che è di cicciogamer questa auto? Qua hanno messo pure il suo colore. Pullato. Hanno pullato. Ah, quanto rumore che fa sta macchina de merda. Eh, non lo so. Senti, aspetta, aspetta. Faccio... Premo... Premo il clac... Il clacso, sei pronto? Eh, il clacso che fa così, aspetta. Te lo faccio sentire. Ma tutti i ragazzi sono cicciogamer. Ma mi sa che sto preso da te. Oh, strike? No, non ne ho preso uno. Oh, mi sono beccato un team vero. Andata, bro. Ma vuoi stai macchino a me che esci? Ma questa arma non si è carica, però. Adè. Eh. Prato. Ho messo tutti i colpi. Non c'ho più. Questo è questo. Chi è questo che mi spara attraverso gli alberi, poi? No, adesso c'è il chag-chag. Ma sono i bot, sono. Carta bassa. Hai ucciso carta bassa. Ma se la staggia, mamma, me lo faccio, bro. Oh, no, no. Guardate, secondo me voi se ballo in giro con sta macchina, muoio? Perlomeno. Metti una canzone. Non posso, per copyright. Ma che dici? E' la merda. Eh, anch'io c'ho quella. E poi questo dovrebbe essere uno sponsor a una pizzeria americana, tipo. Sì. Eh, immagina il bambino che dice, va dentro al negozio e fa, voglio la pizza di Fortnite. E poi si sono nominati un ristorante. Perché sono solo bambini che vogliono la pizza di Fortnite. Infatti è il piccone con la mozzarella. E poi la pizza di Fortnite è un'altra cosa. Voglio la pizza a forma di lama. Questa, quest'auto oramai non la posso portare più. Suona nella radio, lette mi canzioni. Eccola, eccola, eccola. Questa è un'altra macchina. Eccola. Caga, ma roccialla. Brutto colore. Eh, il team è buono. Allora, arrivo, 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 arrivo. Arrivo, 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 arrivo. E' fatti? E' curvetta, l'ho fatto. Non è il modo ideale per portare la macchina, però... Io non riesco a trovare i nemici. Alonni, che arma che c'è? Oh, un altro team. Ah, bene. È imbattata. vedo che mi hanno fatto più danni i bot io ho la mk mitica pass qualcosa ma come tagli sta musica de merda non mi tagli la musica vedi sta musica e capriola guarda arma non c'è assento che arma la salta THE GENDAL non credo ah no no ho perso una kill non riesco a gestire di quello di quest'arma sono gli ultimi non riesco a gestire di questo eeeh macarena non riesco a gestire di questo non riesco a gestire di questo Gli ultimi 3 team Facciamo un numero completo Arriviamo a 45 Arriviamo a trovare gli ultimi sarà un casino Guarda bella che se non ci prendiamo non ce la facciamo entrare nel game Io sono, no ma sa che il game è già iniziato Eh voglia Come è possibile che si è già iniziato scusami E mica ci stiamo a mettere tutto il suo tempo Magari no Questi mo saranno verso safe o no? Stiamo dietro? Spari tu? Sto giocando l'ultimo team mio Sto giocando l'ultimo team Ah voi due sono oro Certo? Oddio Voi chissà dove cazzo stanno Cioè Nooo Ho preso anche il titolo Poi avrà introvabili Che palle Incredibile signori 45 kill win in ranked Che vuoi Non è messa qua Non è messa dove sta Sa dove è accaduto in questo momento con la dire Oh dimmi me Ha pullato Mostro Ecco signori 45 kill Ma per esempio la trampa Non è messa qua per favore Fermo non ci trovo Ma carino Quasi qui l'abbiamo fatto Qua si metta al lobby Argento Argento 3 Meggio Ah si ci sta Ah Ah devi fare almeno un altro game Oh non vuoi si è finito Ah ok Si allora La prima partita Ah ok Che vuoi